Non so se l'avete visto, ma la settimana scorsa ho pubblicato un video sui medicinali omeopatici. In diversi mi hanno chiesto che cos'è che mi abbia spinto a pubblicarlo, in quanto non c'entra più di tanto con l'autosvezzamento. Ma siamo davvero sicuri che non c'entri con l'autosvezzamento? Ciao, sono Andrea di Autosvezzamento.it e in questo video voglio parlare del fatto che l'autosvezzamento, o meglio l'alimentazione complementare alla richiesta, non c'entra niente con allattamento, fascia, biologico, fino ad arrivare a omeopatia e antivaccinismo. Data la premessa e se siete ancora qui e pensate che questo canale faccio per voi, allora iscrivetevi subito prima che vi scordate e premete sulla campanella per assicurarvi di ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Perché l'autosvezzamento dovrebbe essere collegato a cose come antivaccinismo, allattamento, fascia e omeopatia? Cosa hanno in comune tutte queste cose? Diciamo che per alcuni fanno parte del mondo del naturale, e uso la parola naturale nel senso dispregiativo del termine e vi spiego perché dico dispregiativo. Cosa c'è di più naturale dell'allattamento? Niente, siamo fatti così. Cosa c'è più naturale dell'alimentazione complementare alla richiesta? Assolutamente niente, stiamo seguendo lo sviluppo del bambino. Cosa c'è di più naturale di aspettare che un raffreddore passi da solo? Nulla. Cosa c'è di più naturale di crearsi un'immunità naturale prendendosi le malattie esantematiche? Niente. Il nostro corpo funziona così. Vedete il ragionamento come funziona? Cominci da una cosa e ti trovi per sensione da tutta un'altra parte. E parlando con la gente vedo che per tanti questo percorso logico è valido e anche se non si applica a loro stessi perché magari la pensano diversamente, non hanno figli o hanno figli già grandi, lo applicano ad altri. Ed ecco che per dire la mamma con un bambino metti di sei mesi ancora allattato, viene etichettata come mamma fricchettona, ovvero mamma naturale, ovvero non ti sorprendi se fa cosleeping, usa l'omeopatia e magari è anche antivaccinista. Per semplificare, quando uso la parola naturale in questo video immaginatevela racchiusa tra virgolette per sottolineare che non la intento nel senso letterale del termine. Per quanto mi riguarda ho abolito la parola naturale perché oggigiorno è ambigua e ha un significato a mio avviso troppo negativo. Nell'immaginario collettivo non è così diverso dire con l'omeopatia prevengo l'insorgere delle malattie perché rafforza le difese immunitarie, oppure mio figlio si sta avvicinando all'alimentazione solida secondo la sua tempistica. Quando cominci a guardare le cose dal punto di vista del naturale una cosa ti porta all'altra e se non fai attenzione davvero rischi di cominciare dall'allattamento e finire nell'antivaccinismo, passando per l'autosvezzamento. C'è un continuo che li collega e in quest'epoca dominata da social media e fake news, come fai a distinguere la verità dalla menzogna? È sicuramente vero però che non tutti la pensano così, ma nella mia esperienza ci sono in particolare due tipologie di persone che sono particolarmente interessate al naturale. Quelli che vengono sulla pagina Facebook perché credono che l'autosvezzamento sia la cosa giusta, perché anche naturale, e rientra nella loro visione del mondo che comprende anche ad esempio l'omeopatia. Dall'altra parte invece c'è chi l'autosvezzamento lo considera una pratica aberrante e che non riesce neanche a concepire l'idea che si possa fare una cosa di questo genere. Ma come? C'è la scienza che mi mette a disposizione questi prodotti e tabelle? È chiaro di l'utilizzo. Per estensione, data la premessa, concludono che se credi all'autosvezzamento, se non sei un terrapiattista poco ci manca, e vi assicuro che con persone così anche titolate ci ho discusso. Prendiamo poi le persone che non hanno figli, o che hanno figli grandi e che hanno sentito parlare di sfuggita di autosvezzamento, ma non hanno interesse ad approfondire l'argomento perché non è un qualcosa che li riguarda da vicino. Per loro l'autosvezzamento è una specie di terapia alternativa, di medicina complementare, è un qualcosa che segue questa moda del naturale. Insomma qualcosa che è strettamente legato ad argomenti quali l'omeopatia e l'antivaccinismo. Ed è per questo che di tanto in tanto mi serve di ricordare a chi mi segue che tu ok fai quello che ti pare, però in questa pagina Facebook, su questo sito web, su questo canale YouTube ti ricordo che non c'è un collocamento tra allattamento, fascia, omeopatia, antivaccinismo, fiori di Bach e autosvezzamento. Magari c'è nella tua testa, ma lì si ferma. Guardate questa schermata? Qui vi faccio vedere il numero di persone che si sono cancellate dalla pagina Facebook di autosvezzamento.it durante i giorni in cui si è parlato di omeopatia. Ho condiviso i video e un paio di articoli che ho scritto. Vedete che il numero di cancellazioni è di circa 40 in totale. Devo dire che non è un numero particolarmente elevato, mi aspettavo molto di peggio. È più alto di quello che si vede normalmente, ma non in maniera spropositata. Diciamo che c'è un aumento di disiscrizioni non superiore al 50% rispetto a quelle che sono le normali oscillazioni dei mi piace della pagina. Confrontate invece questo risultato con quest'altro grafico. Questo risale all'agosto del 2018, quando ho deciso di condividere un post sui vaccini di Pierluigi Loparco, epidemiologo che fa parte della categoria dei miei Santi Subito. L'estate del 2018, se non ve la ricordate, era la seconda estate dove abbiamo vissuto un periodo di isteria collettiva sui vaccini. In quel caso si parlava dell'abolizione dell'obbligo vaccinale da parte dell'allora governo Lega 5 Stelle. Dico per inciso che per quanto mi riguarda la persona da colpevolizzare per il macello che è successo è l'allora ministro della sanità Grillo, che per tenere i piedi in due staffe è riuscita a scontentare assolutamente tutti. Comunque, dato il livello a cui era degenerata dalla discussione sui social, ho ritenuto importante prendere posizione perché volevo che fosse, per così dire, agli atti e non mi si potesse accusare che anche io avessi piede in due staffe. Allora ho pubblicato questo post di Loparco e neanche a dirsi si è aperto il putiferio. Il numero di persone che si sono disiscritte in due giorni è stato di quasi 150, alla faccia di chi dice che l'antivaccinismo non serpeggia a mio malgrado nella pagina Facebook di autosvezzamento.it. Quindi, come vedete, mi trovo tra due fuochi. Da una parte ci sono i sostenitori del naturale, dall'altra ci sono quelli che dicono che bisogna difendere la scienza e che quello che dice il pediatra deve essere Vangelo. E la mia posizione in tutto questo? La mia posizione è che sì, si deve difendere la scienza e anche il naturale se vogliamo, ma bisogna stare attenti a difendere noi stessi e la scienza e il naturale dai ciarlatani. Per quanto mi riguarda, quando il pediatra mi comincia a dare la ricettina a 4 mesi, mi dici che il latte è acqua, che devi smettere di allattare, che è ossessionato dalla bilancia o quello che vuoi e al pari del pediatra che cura con lo zuccherino o del medico antivaccinista. Indiscutibilmente queste sono cose che ci vuole tempo per essere digerite. Io non sono arrivato a queste conclusioni dall'oggi al domani, ma ci sono voluti diversi anni e non ci si può aspettare che un genitore con un figlio tra le mani possa farlo da solo. Ed è questo che voglio ottenere con autosvezzamento.it. Cercare di aiutare i genitori alle prime o seconde armi a sviluppare un minimo di senso critico in equilibrio tra la naturalità e la medicalizzazione a tutti i costi. Badate bene, non vado certo alla ricerca di una via di mezzo, che è solo una maniera di prendersi in giro, ma piuttosto voglio separare il grano dalla gramigna. Dobbiamo essere capaci di tenere separati quella che è un'opinione personale voglio usare i pannolini lavabili, voglio usare la fascia, dalle verità mediche accettate come gli antibiotici o i vaccini e le ciarlatanerie varie, tipo l'omeopatia o i fiori di Bach o la ricetta per lo svezzamento. Inoltre bisogna poter identificare le tappe normali dello sviluppo dei bambini e gli ampi spettri di normalità all'interno dei quali si muovono e che così in tanti sembrano voler ostinatamente ignorare. Quello che voglio fare è aiutare i genitori a distinguere tra il patologico e il fisiologico, convincendoli che l'infanzia e la crescita in generale non sono mattie da curare. Quindi, da una parte ai fautori della naturalità, ricordo che il passaggio verso un'alimentazione solida è sì fisiologico, ma non ha niente a che fare con un modo in cui voi vivete e vedete la naturalità. E chi dall'altra parte invece auspica la medicalizzazione a tutti i costi, ricordo che questo atteggiamento è ugualmente sbagliato e che comunque medicalizzare l'alimentazione fa solo danni. Certo, cambiare il mondo così tanto è un obiettivo estremamente ambizioso. C'è bisogno che gli addetti ai lavori cambiano atteggiamento, che il Ministero legifere in modo da proteggere veramente i bambini e che non si consenta alle aziende di interferire. L'importante per ora è non appiattire la conversazione pensando che l'alimentazione complementare a richiesta abbia a che fare con la naturalità sia in bene che in male. Non ho alcun interesse a far cambiare idea a chi pensa che la medicina complementare sia efficace. Io voglio che cambiano un'idea quelli che pensano che autosvezzamento uguale medicina complementare. Questo in due parole perché di tanto in tanto ritengo sia mio dovere ricordare a chi mi segue che omeopatia e autosvezzamento no, non hanno niente in comune. E tu genitore di bambino autosvezzante cosa ne pensi? Ti è stato mai chiesto se credi nell'omeopatia? E nei vaccini? Io ho dovuto affrontare questo discorso più volte con parenti amici. Dopotutto mi occupo di autosvezzamento. Raccontami la tua esperienza in merito. Ciao, iscriviti al canale se non l'hai già fatto, commenta e alla prossima.